Venerdì scorso in municipio sono stati presentati nuovi servizi che la lupatotina gasse intende proporre agli utenti. Nell'introduzione il sindaco Federico Vantini ha riconosciuto l'importanza della società partecipata dal comune per il servizio che svolge nel nostro paese, anche in ambito sociale. Fornire tariffe chiare e concorrenziali, seguire il cittadino in ogni passaggio e agevolare le famiglie in difficoltà con i pagamenti. Sono le linee guida che la società segue, ha esordito l'amministratore unico di lupatotina gas vendite, Loriano Tomelleri. La partecipata ora avvia due iniziative che saranno operative già a partire dalle prossime settimane. La prima intende agevolare i cittadini che hanno difficoltà a raggiungere fisicamente i nostri uffici, soprattutto la fascia anziana della popolazione. In questi casi, dietro richiesta dell'interessato, saremo noi a recarci a domicilio del cliente per sbrigare le pratiche, annunciato Tomelleri. La seconda novità, invece, vede lupatotina come interlocutore anche per le questioni relative all'impianto termico delle abitazioni. La nostra azienda riceverà le segnalazioni dei cittadini e farà da tramite conditte convenzionate, che eseguiranno il servizio. Il tutto con piani tariffari inferiori alla media di mercato e con la possibilità per i clienti di lupatotina di provvedere ai pagamenti in modo rateizzato, direttamente all'interno della bolletta del gas.